Berlino si sta preparando ad accogliere altri 3.600 profughi ucraini e lo farà all'essendo un campo tende lungo la pista dell'ex aeroporto di Tegel. La città calcola di dover creare alloggi per circa 10.000 persone entro la fine dell'anno. Abbiamo bisogno di molti più posti e non sarà facile trovarli. La situazione è emergenziale, d'altra parte siamo in uno stato d'emergenza dalla fine di febbraio. Sapevamo di dover affrontare un inverno eccezionale per via della guerra. Dall'inizio del conflitto russo-ucreino circa un milione di profughi hanno trovato rifugio in Germania, 100.000 a Berlino. Molti sono alloggiati in abitazioni private in affitto.